Mi fermo perché credo di aver posto troppi problemi e grazie Avvocato Montalto di cominciare a chiederci le idee su queste cose, grazie. Buonasera, grazie per l'invito. Mariangelo è una forza della natura straordinaria e poi mi vuole temprare alla lotta ancora di più e quindi ha deciso alle 9 di sera di fare molte domande e quindi vediamo chi resiste, è una bellissima idea. L'incontro è interessantissimo soprattutto per me perché è importante essere in giro, conoscere le altre in realtà, arricchirsi, conoscere le persone come Mariangelo e incontrarsi ti dà la forza di andare avanti, quindi vedere che siete in tanti belli, insomma, non è da poco. Io volevo partire con un passaggio. La prima affermazione di Mariangelo che ha detto che noi siamo contrari alla partecipazione di rappresentanti dei movimenti nei enti, sul piano concettuale, ma non ho nulla da dire, sono perfettamente d'accordo con lei. Culturalmente siamo molto vicini, quindi posso solo essere d'accordo. Poi la storia va valutata per il percorso che ti portano a fare delle scelte che non sono necessariamente in linea con ciò che è concettualizzato e quindi i comitati di Napoli, dopo un lungo percorso, su richiesta, hanno deciso di metterci un po' la faccia e di rischiare direttamente. Ci sono dei tecnici disponibili a assumere questo impegno e quindi ci siamo lanciati in questa avventura su richiesta precisa del sindaco di Napoli che ha detto avete voluto la bicicletta, adesso mi tocca pedalarla e andare avanti e rafforzare la ripubblicizzazione. Il dato interessantissimo che emerge nell'immediato, al di là di come si sono sviluppate le cose, di come sono andate poi dopo, per i movimenti per l'acqua è dato importantissimo e che si è dimostrato che l'acqua pubblica è possibile, che funziona bene, può essere efficiente, efficace, economica, produrre utili, programmare investimenti sugli impianti, dopo due anni di discussioni e incomprensioni capirsi con i lavoratori e condividere un percorso e delle soluzioni, trovare una sintonia con i sindacati, capirsi con i dirigenti che culturalmente sono molto distanti se vengono dalla struttura privata con scopo di lucro, quindi sono processi graduali e due anni vi garantisco, sono proprio pochi 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 per tutto questo, però c'è stato un tale impegno del movimento, una tale condivisione che poi dei risultati a casa li abbiamo portati. Io ho incontrato a Sezzano qualche settimana fa, c'era Riccardo Petrella, non so se conoscete, anche lui è stato presidente dell'acquedotto pugliese, andò via sbattendo la porta dopo due anni, anche due anni si era durata massima, perché Michi Vendola non volle di pubblicizzare l'acquedotto pugliese. Eravamo ad un incontro sull'utopia e si discuteva del concetto di utopia, per noi in conclusione è qualcosa di assolutamente realizzabile, il mondo è evoluto sull'utopia che ha realizzato, ve l'ho proprio sintetizzato, però ne abbiamo discusso per parecchio tempo. E lui diceva, parlando, noi siamo due esperienze negative, non ha funzionato. Io non ero d'accordo e poi pare che sia venuto sulle mie posizioni. In realtà lui ha fatto un pezzetto del percorso, ha lavorato per due anni e ha fermato il diritto all'acqua, ha chiesto che l'acqua fosse pubblica, noi gliel'hanno accordata, benissimo. Poi è arrivato a Napoli, abbiamo fatto altri due anni, abbiamo dimostrato che si può fare, che può essere efficiente, economica e efficace, le cose che dicevo prima, insomma, più tante altre. Probabilmente toccherà Torino adesso, fare altri due anni almeno. E andare avanti e procedere questo percorso. Quindi in realtà stiamo avendo dei risultati straordinari insieme, se la vediamo in questo modo. E quindi i movimenti stanno riuscendo in questa battaglia, anche impegnandosi direttamente. Poi le soluzioni non sono perfette, non nascono perfette, non si sviluppano in maniera perfetta, non si concludono perfettamente. Mi chiedete un passaggio che non mi sottrago sulla vicenda di Napoli. Noi pensiamo che, lo dico noi, non per usare il plurale, ma gli statis, perché insomma sono da sempre dei movimenti dell'acqua, non ne sono mai uscito, continuo a svolgere attività, a fare volontariato con i movimenti dell'acqua, abbiamo un pensiero politico in rete con il resto d'Italia e pensiamo che vi sia un nuovo orientamento del sindaco di Napoli dal punto di vista politico, che è stato, e posso anche sostanziarlo poi perché dobbiamo parlare di ciò che sta avvenendo in Italia a livello internazionale e potremmo condividere un'idea. Ed è stato poi, sono state fatte delle scelte giustificate strumentalizzando i lavoratori. Nella sostanza mi si chiedeva l'assunzione di 107 lavoratori nell'azienda dell'acqua che non ne ha bisogno al momento, perché deve portare dentro sicuramente il sistema affognario e poi la depurazione e in assenza di un piano industriale come rilevato dal segretario generale del Comune di Napoli che nelle sue osservazioni dice che non si può fare, in assenza di una copertura economica rilevata dal Collegio delle Visioni dei Conti garanti del Consiglio Comunale che dice ti devi fermare perché non si può fare, hanno bloccato gli stipendi di questi signori che lavorano in un ex consorcio, impegnati in un ex consorcio, non li hanno pagati, li hanno caricati a molla, cosicché luglio non è stato pagato, a settembre l'assessore al lavoro si è presentato in commissione del bilancio e ha detto noi non possiamo pagare perché non passano da bici, naturalmente potete immaginare mi hanno e ci hanno resi il bersaglio delle recriminazioni di questi lavoratori che comunque non percepivano lo stipendio e legittimamente lamentavano questa cosa. Insomma è stata l'occasione per evocare un consiglio di amministrazione intero scomodo, siamo a novembre, comunque non si è fatto nulla da 15 dicembre, anzi una delibera del comune rinvia tutto all'anno prossimo almeno, quindi era chiaramente un'occasione, lo sappiamo capita, un po' messo in piedi per giustificare una strategia di exit in mano a molla. Veniamo alle cose che ci piacciono di più e molto interessanti, abbiamo scoperto con Napoli che l'acqua pubblica si può fare, diceva Mariangela, l'ha detto la Corte dei Conti, per un caso l'ha detto la Corte dei Conti della Campania e la Corte dei Conti del Piemonte, mi sa che il destino che Torino e gli altri ritrociamento comune arriva alla trasformazione. Vi dico a Napoli che cosa abbiamo fatto, il passaggio alla trasformazione è stato ipotizzato prima che ci fosse quest'ultimo sindaco, c'era il sindaco Iervolino all'epoca, perché abbiamo proposto all'epoca la trasformazione? Per una serie di ragioni, innanzitutto perché pensavamo che un cambiamento di rotta fosse possibile ma dovevamo trovare una soluzione per non trocare il menarimento aziendale troppo forte politicamente e quindi abbiamo pensato che la società c'è, funziona perché l'azienda napoletana ha sempre funzionato, produce utili in quel caso addirittura profitti, fornisce acqua di altissima qualità ma non è una gestione pubblica. Il testo unico degli enti locali del 2000 prevede la possibilità di trasformare le aziende speciali in società per azioni, però nel 2003 sono state fatte delle modifiche al codice civile ed è possibile oggi fare qualsiasi trasformazione, una fondazione può diventare una SRL, un'associazione può fare altrettanto, un ente pubblico può diventare un ente privato e viceversa, così abbiamo pensato che fosse possibile trasformare la SPA in azienda speciale, quindi fare il passaggio al contrario. ci siamo dovuti scontrare con le diverse opinioni del mondo accademico prevalentemente e di qualcuno che non aveva interesse chiaramente di andare in questa direzione, però è quindi che il sindaco Iervolino deliberò in giunta la soluzione della trasformazione ma non aveva la forza di portarle in consiglio e tenerne l'approvazione e quindi la battaglia è andata avanti e proseguita finché con il nuovo sindaco abbiamo ottenuto che portassero in consiglio la decisione, perché comunque è una decisione del consiglio comunale, che ha deliberato la trasformazione e poi il passaggio successivo è dal notaio. Gli aspetti formali quindi sono abbastanza banali, nulla di straordinari, si tratta di una delibera è un passaggio dal notaio, quindi la necessità, la difficoltà maggiore è di carattere politico, è necessaria che vi sia la volontà. Naturalmente Napoli è diversa da qua perché essendo un unico comune con il 100% del capitale l'operazione la doveva decidere un unico consiglio. Diverso è il caso di SMAT su quale poi bisogna andare a fare una direzione, se ad esempio costituire a livello di Ato una nuova azienda speciale e farvi confluire in qualche modo dove va cercata la soluzione tecnico-giuridica, la SPA partecipata dai tanti comuni, se lavorare sull'ipotesi di consorzio e quindi si può trasformare in consorzio, le difficoltà burocratiche sono tante e in vero essere entrati in un'azienda, aver avuto l'occasione di conoscere le dinamiche ci ha fatto individuare alle volte anche delle soluzioni. Quindi concettualmente siamo d'accordo sull'assenza dei movimenti, dalla partecipazione diversa alla vita politica da parte dei movimenti, però è vero anche che si creano delle occasioni di conoscenza diverse e più profonde. Questa è la parte formale che è stata affrontata e risolta facilmente eppure è durata quattro anni. Diversa la questione della trasformazione sul piano sostanziale, che intendo per sostanziale, però internamente il problema più grande è quello culturale, nel senso che in un'azienda trasformata ci si trova a confrontarsi con una dirigenza che ha strutturato per far profitto e bisogna ristrutturarla in qualche modo, contaminarli forse con la nostra formazione e spiegargli che non devono preoccuparsi di far profitto, bensì di garantire un diritto. Non molto tempo fa sono stato a Milano, ho incontrato i colleghi della Cap Holding di Milano, una bellissima azienda che potrebbero trasformare, funziona, l'ho visto dai bilanci sociali. Il bilancio sociale però di un'azienda speciale sicuramente deve avere un'impostazione diversa da quella di una SPA, perché guardavo il loro bilancio e notavo che sono tanti i numeri, quanto ha fatturato, quanto è incassato, quanto è investito, quanti nuovi contratti ha fatto, quanto guadagnerà, quanti fondi chiederà, eccetera. Il bilancio sociale dell'azienda speciale deve essere una cosa diversa. Come riesce a garantire il diritto all'acqua, la durata, i tempi degli interventi, se qualche numero lo diamo, se riesce a contenere le tariffe, se riesce a trovare la soluzione per dare l'acqua a chi non ha la possibilità, se riesce a garantire l'acqua anche a chi non ce l'ha in altri luoghi. In questo senso, ad esempio, la PC di Napoli ha investito piccole cifre, però ha dato dei contributi in paesi in via di sviluppo, allo Stato che torna essere rimasti a 8 o 9 progetti, perché dopo credo non sia stato fatto altro, però in 9 paesi in via di sviluppo sono stati realizzati pozzi, nella striscia di Gaza sono state date le risorse per acquistare una cisterna d'acqua, in altri luoghi è stata realizzata una parte di rete idrica, perché se di diritto all'acqua parliamo, parliamo di diritto universale e dobbiamo impermiarci per garantirlo a tutti. Diverso se abbiamo un approccio al business e quindi l'obiettivo è far profitto. Quindi l'attività più complessa anche perché tutta da inventare e da sperimentare sul campo è stata quella da fare essenzialmente con i dirigenti dell'azienda che andavano contaminati. Poi naturalmente le complessità sono tipiche di tutte le aziende pubbliche, di tutti gli enti pubblici, la politica è intervenuta, interviene, i sindacati ci sono, ci sono a un modo loro, con i lavoratori il rapporto non è stato facile all'inizio, però poi con le maestranze che sono straordinarie, quelle napoletane sono meravigliose, sono di una bravura notevole. Con le maestranze c'è voluto tempo, ma poi ci si è capiti e siamo arrivati al punto di aver individuato insieme delle soluzioni, perché è proprio l'impostazione aziendale che deve essere cambiata ma bisogna farlo insieme. Per pubblico non si può intendere soltanto il passaggio dell'atto notarile, si deve intendere un'azienda che tende a governare tutti i processi all'interno, garantire la qualità del servizio ai cittadini, ma anche garantire la qualità del l'impegno dei lavoratori, la sicurezza dei lavoratori e quindi la stabilità delle famiglie deve essere un obiettivo e quindi portare quanto più dentro e rendere più solido e quindi il progetto era avviare, questo è stato l'ultimo consiglio dell'amministrazione purtroppo, nel corso nel quale si è raggiunto un accordo con i sindacati sulle internalizzazioni da fare, internalizzazioni da fare che ipotizzavamo fossero utili anche a garantire questi lavoratori del consorzio del Comune di Napoli che volevano portare dentro. La vigilanza aziendale invece di essere appaltata all'esterno, scaduto il contratto, poteva essere assegnata a dei lavoratori riformati, nel senso di nuova formazione, in azienda, però sono processi graduali che impongono che vi sia un piano industriale, le cose bisogna farle avendo un progetto, le idee chiare, però abbiamo avviato il percorso, quindi abbiamo iniziato dopo la fase in cui è stata una contrapposizione, anche perché poi con dinamiche varie i lavoratori spesso sono strumentalizzati e l'abbiamo visto in questo caso nel quale è stato sufficiente non dargli lo stipendio per due mesi e trovarceli naturalmente contro. Quindi abbiamo superato tutte queste difficoltà, il lavoro non è stato poco. Le burocrazie all'interno dell'azienda sono alle volte un po' cristallizzate e quindi smuoverli dalle posizioni non è facile. Tendenzialmente quando la politica interviene e cambia le cose lo fa con un obiettivo diverso dal nostro, nel senso che la nuova gestione che arriva vuol sostituire la classe dirigente perché la classe dirigente in uscita deve essere soppiantata da quella in entrata. Non è facile, per tante ragioni, anche perché i dirigenti hanno contratti di lungo termine, perché ci sono posizioni consolidate. Allora iniziano le denunce, le contestazioni, le indagini della Guardia di Finanza, della Procura, della Corte dei Conti e quindi di scandali chi va, chi viene e quindi anche questo è successo in ABC finché non siamo arrivati noi e ci siamo dati una mission ben precisa, diversa. Noi non dobbiamo sostituire una classe dirigente, dobbiamo far funzionare l'acqua pubblica e quindi il primo obiettivo è stato dobbiamo pacificare. Nel nostro pincolo abbiamo fatto un po' l'operazione che ha fatto Nelson Mandela quando è stato eletto Presidente, che non ha cacciato i vecchi, ha integrato con i nuovi ma ha garantito a tutti la possibilità di continuare il percorso. Questa cosa non piace necessariamente, quindi, revocato il precedente, l'ultimo consiglio d'amministrazione che è quello che presidevo, si è ripartiti con l'epurazione. Quindi il meccanismo è un altro perché gli obiettivi sono molto diversi. Naturalmente anche questo è un processo difficile da far accettare da una parte e dall'altra, perché ci si trova in mezzo a queste fasi di transizione, in mezzo a due luoghi, il vecchio e il nuovo, entrambi che lottano per occupare uno spazio e tu devi fare l'equilibrio lista. Altre criticità, sicuramente siamo stati sotto attacco delle lobby e lo siamo ancora. L'azienda è chiaramente sotto attacco, perché il processo politico in campo abbastanza chiaro è altro, vuole portare ogni azienda d'Italia in altra direzione. Con noi l'hanno fatto utilizzando strumenti di vario tipo. Io sono arrivato in azienda, avevo lì presente ogni giorno con grande piacere, c'era un rapporto di grande cordialità, ma insomma avere tutti i giorni la guardia di finanza in azienda non ti consente di lavorare con serenità propria. E quindi la Corte dei Conti e poi la Procura della Repubblica, ma l'Agenzia delle Entrate, nel corso di un anno e mezzo sei accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per un totale di 60-70 milioni di Euro, quindi assegnano il carico al legale che ti devi eseguire, il tributarista di chiara fama, perché insomma la questione era delicata. Abbiamo vinto sei ricorsi alla commissione di primo grado, una sentenza della commissione di primo grado chiede di mandare gli atti alla Corte dei Conti e pone un quesito, perché l'Agenzia delle Entrate sta perseguitando la DC ed è stata chiara, poi abbiamo vinto l'appello e alcune l'abbiamo vinto già in Cassazione, altre sono ancora in corso, quindi l'attacco alle volte è sfacciato, io l'ho denunciato anche in altre sedi, in audizione al Senato, l'ho detto a Chiara Letta, quando abbiamo discusso della legge nazionale, certo che il pubblico ha difficoltà a funzionare, si approvano norme che non gli consentono di un funzionamento, si favoriscono delle forme di gestione diverse, poi siamo sotto attacco di qualsiasi soggetto, abbiamo la possibilità di dire la sua sull'azienda, sfido chiunque a avere la capacità di resistere. Naturalmente anche gli accertamenti, le verifiche, i punti di vista dell'ANAC e dell'Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica e il Gas e il Servizio Ilico non sono mancati, quindi al di là della complessità della gestione si aggiunge tutto questo, è un carico, un dibuco e vi dico che l'azienda non ha degli uffici che si dedicano a questa parte, a questo pezzo perché si è sotto attacco, quindi queste sicuramente le criticità che sono dovute affrontare, quindi preparatevi a questo e qualche altro perché avranno sicuramente qualcosa in serbo per la ripubblicizzazione di Torino e ci sorprenderanno. Positività, sicuramente che con un processo culturale durato almeno due anni con un'attività di comunicazione e di informazione sia interna all'azienda che era col territorio, perché il fenomeno è stato interessantissimo, si è riuscito a cambiare qualcosa perché i lavoratori non hanno più avuto paura della ripubblicizzazione, li hanno terrorizzati, problemi sulle pensioni, problemi sulle reglianziarie, problemi, non è bello, semplicemente non è bello. Poi abbiamo dovuto ragionare e smontare, poi avevano paura di questi mostri dei movimenti che volevano portare un po' di legalità, di correttezza, di trasparenza, in realtà se ne sono avvantaggiati tutti perché non hanno subito l'impatto della venuta dei movimenti perché noi ci teniamo a garantire la qualità dei lavoratori, l'azienda aveva un asilo per i bimbi dei dipendenti, aperto tra l'altro al territorio e ha continuato a funzionare con la nostra gestione, ma poi è stato garantito il telelavoro ai dipendenti, sono stati riconosciuti dei premi, quindi passate le prime paure si è iniziato a ragionare in termini di acqua pubblica, quindi si è spostata la loro attenzione sull'acqua pubblica ed è stata una grande occasione anche per i movimenti. Dall'inizio abbiamo provato a mettere in campo un sistema di partecipazione democratica, ora non è che abbiamo mai fatto grandi esperienze nel settore non essendo mai entrati nell'azienda e non essendoci stata data l'occasione, in precedenza è stato modificato lo statuto dell'azienda prevedendo l'istituzione di un comitato di sorveglianza, al di là del fatto che dipendeva dall'amministrazione comunale, non dall'azienda il funzionamento del comitato, io non ero molto favorito ad essere sorvegliato, io voglio condividere, non ho bisogno di essere osservato, sorvegliato, non sono lì per commettere nessun clinde, però abbiamo porte e finestre e condividiamo i percorsi con i territori, perché vi dico che la forza della ripubblicizzazione è la condivisione, c'è più maggiore la consapevolezza dei territori, maggiore la protezione è che ricevi, quindi la soluzione è aprire le porte e condividere, come abbiamo fatto? Inizialmente i rapporti erano con i comitati dell'acqua, vengono da lì, però non è che abbiamo speso rapporti con il centro sociale, con il cittadino attivo, con il comitato dell'altro tipo, ci si è aperti a tutti, si è lavorato molto sulla comunicazione istituzionale, le bollette sono diventate quasi un giornalino, all'interno si è informato sull'attività dell'azienda, ma poi si è andato un po' in televisione, si è fatto uno sforzo anche in questo senso, ma la parte più interessante è stata la partecipazione ai consigli di amministrazione, cioè invitare dei cittadini, dei comitati o meno al consiglio di amministrazione e dirgli sì, questa qui, puoi partecipare, puoi anche dire la tua, naturalmente poi la decisione compete al consiglio di amministrazione, quindi quando è il momento di decidere per statuto devi uscire. Come è avvenuto questo processo? Si è fatto un po' inalberare qualcuno, perché lo statuto dell'azienda prevedeva la possibilità per il Presidente di convocare per ascoltare e per aggiornare, per approfondimenti. Ho pensato la norma fosse applicabile anche ai cittadini che vogliono ascoltare e vogliono conoscere dal punto di vista. Probabilmente ha un'origine diversa, nasce per ascoltare il dirigente che deve riferire su un'attività sulla quale devi deliberare, ma questa cosa nello statuto non era precisata, lo dico che il quale abbiamo aperto. Inizialmente il consiglio di amministrazione aveva una struttura piuttosto classica, io ero il Presidente che univa dai movimenti, però gli altri 4-3 componenti erano stati selezionati con criteri un po' diversi. Questa cosa è durata, puoi dire, tra pugni sulle porte e sui tavoli litigi furiosi è durata 6-7 mesi, dopo lì si sono dimessi, ma non c'erano contrasti nel merito delle decisioni, anzi grandi accordo, ma il metodo non veniva compreso e lì purtroppo non si riuscì a contaminarli sul nostro metodo e dopo 6 mesi si sono dimessi. Così è iniziata la fase di commissariamento, il Sindaco mi nominava un commissario, siamo andati avanti, abbiamo ristrutturato e nel corso del commissariamento si è pensato con i movimenti di istituire un consiglio civico, che è l'Assemblea dei cittadini che si incontra e discute delle tematiche aziendali, del funzionamento dell'azienda e delle questioni interne, ma di tutto, di tutto abbiamo deciso insieme le tariffe, abbiamo deciso insieme gli appalti, abbiamo deciso tanto, tanto, tutto, tutte le questioni all'ordine del giorno, il che ha costretto tutti a studiare e a capire i meccanismi con i quali funziona l'azienda, qui ad andare molto più a fondo della battaglia che noi facciamo con grande impegno e che comunque ha le sue belle difficoltà e gli studi che ci impone. Si è costituito il consiglio civico che si è autoregolamentato come commissario o semplicemente ratificato il regolamento e poi ha espresso con il buon senso, senza meccanismi di maggioranza, nel consiglio civico non hanno funzionato i numeri, non sono prevalse le maggioranze. Con il buon senso sono stati espressi quattro nomi di persone che avrebbero partecipato e sarebbero stati, che erano essenzialmente gli interlocutori dell'organo amministrativo del consiglio di amministrazione dell'azienda, interlocutori significa che deve avere quattro posto elettroniche di riferimento per mandare l'invito e dire guardate che c'è il consiglio di amministrazione, il che non escludeva la possibilità per altri di venire, o per altri movimenti, per altri comitati, piuttosto che centri sociali che pure hanno avanzato questa richiesta, ai quali è stato detto di sì, quindi di partecipare al consiglio di amministrazione. Però sapete che le giornate sono complesse, alla fine il consiglio di amministrazione al massimo due o tre persone potevano venire, anche perché sono continui. Ma è stata un'esperienza importantissima, perché quando abbiamo ricevuto ad esempio delle sanzioni dell'autorità nazionale per l'energia, elettrica, gas e servizio idrico, i cittadini hanno scoperto, leggendo le carte e analizzandole insieme, che c'era una responsabilità interna all'azienda e che quindi dei soldi andranno restituiti. E quali sono i meccanismi, quali sono le responsabilità, che cosa è avvenuto, sono entrati e in qualche modo si sono anche responsabilizzati e si è deciso insieme che percorso fare per risolvere la questione, perché dei soldi andranno restituiti. In realtà l'abbiamo fatto anche in precedenza, forse l'unica azienda in Italia che ha restituito, abbiamo restituito 3 milioni e mezzo di cittadini, una quota della caparra perché l'autorità nazionale fissa un limite per la caparra a seconda del territorio, per la cauzione del contratto, a Napoli è 44 Euro, però la differenza pagata in più in passato, l'azienda la teniva in cassa, è scoperta questa cosa, è stata condivisa, non dobbiamo capirla perché è anomalo che restino le casse dell'azienda e quindi 3 milioni e mezzo sono 130 mila utenti che hanno avuto indietro i soldi. Adesso il percorso avviato è un po' di vedere come gestire, però è stato interrotto proprio in questa fase che riguarda le tariffe, poi chi ha commesso le violazioni è diventato il direttore dell'azienda, ma questa è un'altra storia. Dovevamo decidere insieme, condividere il percorso e capire come restituire questa quantità di soldi ai cittadini e capire di chi era la responsabilità di queste violazioni. Però vedete che l'approccio è completamente diverso, questo porta anche ad avere contezza delle necessità reali sul territorio, se parliamo di un diritto e non di una merce, non ci interessa venderla, averla sul mercato e farcela chiedere, ma non interessa capire dove non riesce ad arrivare, dove c'è il problema. In questo senso è stato interessantissimo il rapporto con i lavoratori, ho trovato una grandissima umanità. Vedete se è stato difficile il rapporto con i dirigenti, in questo senso non lo è stato con le maestranze che sono meravigliose perché vivono tutti i giorni a contatto con i tubi, con l'acqua e con le persone e quindi loro sono i profondi conoscitori del valore dell'acqua. E quindi mi permetto di suggerire qui a Torino, magari li seguite, cercate di conoscere, di comprendere il lavoro che fanno perché è molto impegnativo. Immaginate che la gestione della rete idrica è la gestione di un'industria diffusa su un territorio vastissimo, è una cosa di una complessità straordinaria e dipende da loro, dalle loro capacità, della loro professionalità. E quindi l'azienda ha fatto questa scoperta e ricordo una volta che su incarico della procura è stata staccata l'acqua in un palazzo occupato abusivamente, ma lì c'erano delle famiglie disagiate perché non va a occupare il benestante, diciamoci. Famiglie disagiate, qualcuno con bimbi malati e con un portatore di handicap, però suor viene la procura, l'azienda ha dovuto tagliare la forza pubblica, ce l'ha imposto. Poi di sera hanno dissequestrato il fabbricato perché insomma è stato attivato un processo, ma non siamo stati autorizzati a riattaccare l'acqua. I lavoratori non si sono formalizzati, sono tornati, hanno rifatto l'impianto, hanno lasciato l'acqua. Sono stati meravigliosi, hanno preso i nomi di tutti, se li sono segnati per verificare se commettessero o meno un reato, però sono stati coraggiosissimi. Questo è il coraggio. Il coraggio non è forzare sulle assunzioni perché c'è un impegno pubblico e non trovare una soluzione concreta, definitiva, duratura che garantisca il lavoratore. Non è quello che è il coraggio. Il coraggio sta nel dire no, secondo noi, quando è momento di dire no, e nell'esporsi, lo abbiamo fatto per due anni, perché guardate, da commissario a provare i bilanci da solo, che hanno fatturato i 130 milioni di euro, garantisco, vi temono le primi imporsi, perché insomma è una cosa impegnativa. Ma questa è un'altra esperienza che ci ha fatto comprendere anche le tensioni di chi vive dall'altra parte. Quindi c'è una grande positività in questa esperienza. Questo momento è diverso da storico, è diverso da quello di qualche mese fa, più un anno fa, perché vi sono dei processi di lobby che avanzano. In realtà la Banca Centrale Europea già inviò i suoi diktat al governo Perlusconi e disse, erano i suoi desiderati, poi qualcuno sostiene che la JP Morgan ha scritto la nostra riforma costituzionale. Si va sostanzialmente in quella direzione, il governo segue quegli indirizzi, alcune norme le abbiamo portate dinanzi alla Corte Costituzionale, perché nonostante il referendum ci provano di continuo ad imperirci di ripubblicizzare i servizi, tutti i servizi pubblici locali, perché il referendum non era limitato all'acqua. E quindi in questo momento il governo sta dando seguito agli indirizzi e sta tentando di imporre un'occupazione dell'Italia a pochi soggetti. Conosco un po' meglio sicuramente la situazione del centro-sud, quindi non me ne vogliate, ma io il quadro chiarissimo del nord non ce l'ho. Penso che essenzialmente lo vogliono frazionare in tre, assegnare a tre grandi gruppi. Il centro-sud invece ad un unico soggetto. Non è una nostra relazione, non è una nostra teoria. In realtà c'è stato confermato dal direttore generale del Ministro dell'Ambiente alla trasmissione presa diretta più di un anno fa. E poi l'abbiamo trovato nella relazione annuale dell'autorità per l'energia elettrica, gas e servizi idrici. In ultimo, se avessimo avuto dei dubbi, il direttore generale della presidenza del Consiglio dei Ministri ha presenziato all'incontro dell'Anci di Emiliano, per trovare Emiliano a Bari qualche settimana fa, e ha detto che noi vogliamo e faremo il gestore unico del centro-sud d'Italia. A proposito di Costituzione, che sta trovando completamente gli enti locali, perché sono competenze degli enti locali, il governo nazionale non c'è, in questa storia. E quindi era presente l'autorità per l'energia elettrica, gas e servizi idrici, era presente Emiliano, che ha sposato questa linea, era presente De Magistris, che è rimasto in silenzio. Pensiamo che togliendo i comitati dall'ABC, fondamentalmente abbia tolto quel granellino dall'ingranaggio, perché non si era nient'altro che questo, quel granellino dall'ingranaggio che bloccava questa occupazione del centro-sud. Che come va avanti? Va avanti con una strategia di carattere più o meno militare, definirei, perché c'è un'occupazione innanzitutto delle fonti, delle fonti d'acqua, quindi del rubinetto principale, e non è cosa da poco dal punto di vista strategico, e delle risorse economiche, perché hanno un valore enorme. Lo stanno facendo essenzialmente due grandi soggetti, la Suez e la Veolia francesi. La Suez è generalmente attraverso la CEA e la Veolia verrà direttamente con partecipazione in diverse società che gestiscono le fonti. Poi da lì chiaramente puntano ad allargarsi. Contemporaneamente sono in atto altri processi e qua lì veniamo immediatamente. Vi faccio un esempio. In Campania l'acqua occidentale, in grandi quantità d'acqua, è gestito dalla società Acqua Campania, che è il 47,9% di Caltagirone, che come sappiamo è entrato in Suez e nel frattempo ha ceduto le proprie quote di Suez, di Acea, in modo tale da rafforzare la Suez all'interno dell'Acea, e il 47,9% sono detenute da Veolia. Il resto, piccole quote di impregi di International, banche varie e così via. Quindi Acqua Campania di Campania non ha nulla, ha solo il nome, è una multinazionale, ha occupato le fonti. Nel Molise ci sono importanti fonti d'acqua che sono sotto attacco, si va alla liquidazione dell'azienda speciale e ci sono delle mire della Suez attraverso l'Acea. Nel Lazio chiaramente domina l'Acea, ma la Veolia è in Calabria. Una situazione meno grave, tra virgolette, in Basilicata, lì dove gestisce un'azienda dei comuni in intera regione, però non dovranno impegnarsi troppo per fagocitarla nel sistema. La Puglia l'acqua non ce l'ha, la prende dalle altre fonti. Nel frattempo, sono in atto degli importanti accorpamenti. Il percorso che fanno le lobby mi è inseguito dal legislatore, nel senso che le lobby fanno dei passi in avanti e trovano sempre la copertura normativa che ratifica le loro scelte. Già il decreto Lonchi, che è stato abolito con il referendum nella parte in cui impediva la gestione pubblica, prevedeva degli accorpamenti. In maniera più chiara li ha previsti lo sblocca Italia, perché ha definito proprio il livello di accorpamento e possibilmente, essenzialmente, il livello regionale. E si stanno adeguando quasi tutte le regioni italiane, sicuramente la Campania, Lazio, la Puglia. Il passaggio successivo sarà la possibilità di un accordo tra le regioni. Però in questo momento sono in atto gli accordi interregionali. Tornando al caso Campania, che conosco meglio, però colleghiamo la Puglia in Molise. E torniamo ad Emilia. Perché se a Benevento c'è la società Gesesa che gestisce ed è della CEA, a Avellino c'è l'acquedotto Alto Calore che si sta fondendo con la Gesesa e hanno già formalizzato un protocollo intesa con l'acquedotto di Puglia. L'area di Avellino è ricca dei fonti d'acqua. E quindi l'operazione è costruire un primo accordo ultra-regionale. Nel frattempo la regione ha individuato le infrastrutture strategiche. Vedete che laddove chiediamo di prendere delle decisioni agli enti trovano mille difficoltà e spesso le difficoltà sono oggettive. Però quando le lobby danno disposizione si può fare tutto. Quindi in Campania, come in altre regioni, la regione gestisce delle fonti d'acqua. Poi decide quali sono le infrastrutture strategiche, quindi quelle sulle quali decide direttamente la regione, anche se nessuna norma assegna alla regione questo potere. Anzi, un'importante sentenza della Corte Costituzionale di non troppo tempo fa riguarda la Campania, dice chiaramente le regioni possono legiferare materia, ma non sono l'ente di governo d'ambito che ha il governo del servizio idrico, né sono il gestore. E quindi invece, visto che sono dei grandi lavoratori in Campania, hanno deciso di essere contemporaneamente legislatori, ente di governo d'ambito è il gestore dell'acqua. Quindi hanno individuato tra le infrastrutture strategiche anche l'acquedotto del Serino, che è l'acquedotto che gestisce l'ABC, l'acqua pubblica di Napoli. Ed è sotto attacco anche da questo punto di vista l'azienda. Perché l'ABC gestisce l'acquedotto e preleva 2.000 litri d'acqua al secondo. Ebbene, la regione gliel'ha ridotti a 1.500. È tantissima acqua. Cosa vuol dire? Nel bilancio idrico, cogliendo l'occasione di rifare il bilancio idrico tra le disponibilità da distribuire sulla regione, ha detto che l'ABC ha anche la disponibilità di alcuni pozzi, utilizza il bilancio con i pozzi di cui dispone. In realtà qua ha fatto una doppia operazione. I pozzi hanno dell'acqua per l'emergenza, non è acqua bevibile, altererebbe troppo la qualità di quella che beviamo di sorgente e quindi non è compatibile con la soluzione prospettata. Il che vuol dire che non solo riduce la quantità d'acqua, che è possibile attingere dal Serino, che è un acquedotto, una sorgente che si trova nella Bellinese, spostando quindi l'acqua verso la Puglia e quindi favorendo quella accorpamento, l'operazione, ma costringe l'azienda di Napoli a comprare altri 500 litri al secondo da chi? Da acquedotto, da acqua campania, cioè da Bionvia e da Cartagirone. Questa cosa qua avrà un impatto di circa 3-4 milioni di euro all'anno, non previsti in tariffa, quindi un costo per l'azienda che naturalmente crea delle criticità. Contemporaneamente decidono di aumentare l'acqua di subdistribuzione, cioè la gestione, la regione che dovrebbe essere solo legislatore, ma fa anche ente d'ambito e quindi decide le tariffe e fa da gestore e quindi se le fa pagare, quindi fa la legge, decide le tariffe e fa da gestore e quindi stabilisce le tariffe per sé, aumenta da 16 centesimi al metro cubo a 25 centesimi al metro cubo l'acqua, che per l'ABC significa altri 11 milioni di euro all'anno di spese, che sommato agli altri 3-4 insomma abbiamo intorno ai 15 milioni di euro all'anno, non previsti in tariffa. Guardate che questo è il sistema e il metodo con il quale si affonda l'azienda. Quindi vedete che l'acqua pubblica il problema non è il modello, se è possibile ripubblicizzare, certo che è possibile ripubblicizzare, la soluzione giuridica è banale, non oltretrovata, l'applicazione non richiede grande impegno, il problema è che ci stanno togliendo le risorse per favorire quale processo? Il processo di accorpamento ultraregionale per l'occupazione delle due multinazionali francesi, Suez e Golià, che devono prendere il centro sud Italia. L'impatto sul sistema democratico è enorme, perché stessa operazione al nord, dare in affidamento, ipotizzo, trentennale la gestione del servizio idrico ad un unico soggetto su un territorio così basso, significasse spendere il sistema democratico, nel senso che neanche il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà più intervenire su quelle risorse. Figuriamo il sindaco che era abituato che la mattina aveva il problema della fontania nella scuola a zava il telefono e chiamava il Presidente per chiedere di andarla a riparare e dopo un quarto d'ora si trovava all'operaio, figuriamo se si può chiamare il Presidente dell'acquedotto della Suez a Parigi per chiedere in francese probabilmente di andare a riparare la fontanina. Si perde completamente il contatto con il territorio. Quindi con la gestione pubblica noi non solo cercavamo di offrire un servizio il migliore possibile ai cittadini, ma anche di avere un rapporto diretto con la comunità territoriale e conoscere le necessità, cioè andarle a cercare per risolverle, anticipare le necessità. Con la grande privatizzazione si va in direzione diametralmente opposta. E' questa naturalmente un'operazione facilitata dalla revoca del Consiglio dell'amministrazione composto da rappresentanti dei movimenti che questa storia la vedono, la leggono, la capiscono, la interpretano e la fermano. Il giorno prima di essere revocato dall'azienda avevo comunicato al Sindaco che avrebbe impugnato la delibera regionale di incremento delle tariffe e la delibera con la quale riducono la quantità d'acqua delle fonti del Serino. E il giorno dopo non è arrivato il decreto di revoca dell'incarico, le coincidenze capite, non è che poi sicuramente già era pronto, già sapevano che cosa devono fare. Però insomma, è il motivo per il quale adesso ci si sta impegnando ed è il motivo per il quale sono qua, perché dobbiamo darci forza l'un l'altro e portare insieme avanti la battaglia, perché se è vero che stiamo costruendo un centro sud Italia, è bene che ci si trasferisca le esperienze l'un l'altro in modo tale da accelerare i tempi e si creino delle importanti retenze qui. Ebbene, io sono convinto che con la SMAT la ripubblicizzazione ci possa essere, ma questo, a proposito di utopie, deve essere solo il primo passo, probabilmente, perché l'azienda speciale è una soluzione che abbiamo trovato, soltanto perché si partiva da una società per azioni, ma l'acqua è un diritto, quindi io tornerei con un passaggio successivo alle gestioni in economia, cioè i comuni gestivano l'acqua prima, e poi si potrebbe fare un passaggio in più. Però questa è l'evoluzione del pensiero che ancora non ha una forma giuridica, è questa l'utopia, bisogna individuarla. Se l'acqua è un diritto e la cura deve essere delle comunità, la gestione deve essere delle comunità, e su questo dobbiamo approfondire e trovare delle soluzioni di là da venire. E qui invito tutti i giuristi presenti a un'elaborazione, un approfondimento sul tema. E concludo magari su un passaggio su SMAT perché vorrei dare un contributo. Guardate che sicuramente se non cambia il management delle aziende, dall'altra parte non è che si riuscirà a trovare qualcuno che favorisca i processi di ripubblicizzazione. E visto che non ci si sta dentro l'azienda, gli argomenti che potranno essere tirati in ballo e che potranno spuntare all'improvviso per bloccare il processo saranno i più vari. Poi bisognerebbe argomentare dall'altra parte di volta in volta, ma in realtà la soluzione più semplice sarebbe iniziare a sostituire i manager e individuare delle professionalità, dei professionisti eticamente orientati e questo potrebbe essere il primo passo. La soluzione tecnico-giuridica, se sono 300 comuni si potrebbe ipotizzare un consorzio, si potrebbe ipotizzare un'azienda speciale dell'ente d'ambito, però effettivamente se non abbiamo le carte non ci mettiamo le mani dentro, è un po' difficile, ma considerate che il diritto è al servizio delle necessità, spesso dinanzi alle istanze che avanziamo ci si oppone che il diritto non lo consente. Il diritto è al servizio delle necessità e della collettività, non dobbiamo noi piegarci al diritto e quindi sicuramente quella ripubblicizzazione a Torino penso che possa essere la prossima città a fare questa meravigliosa esperienza. In bocca al lupo! Grazie! Grazie! Grazie Grazie! Grazie! Grazie.